molti studi dimostrano che la presenza delle malocclusioni nella società moderna sia elevata e si attesti fra il 60 e l'80 per cento ma quali sono quelle che mostrano una maggiore incidenza lo vedremo appunto in questo video l'ortodonzia come branca dell'odontoiatria ha lo scopo di prevenire e di curare le malocclusioni per cui è importante conoscere quanto sono frequenti i vari tratti malocclusivi nella popolazione mondiale è stato visto che le variazioni occlusali sono correlate con l'etnia per esempio le seconde classi di engol sono più frequenti nei caucasici mentre le terze classi sono più frequenti negli africani e negli asiatici nonostante le differenze geografiche comunque sia le variazioni occlusali seguono una distribuzione universalmente comparabile perché la prevalenza è la seguente sono più frequenti le prime classe delle seconde e le seconde classi rispetto alle terze l'overjet aumentato cioè il morso aperto e il deep bite cioè il morso profondo sono più frequenti dell'overjet ridotto e dell'open bite il cross bite invece è poco diffuso l'affollamento dentale è molto frequente nei denti da latte più frequente l'open per via delle cattive abitudini le malocclusioni dentali sono caratterizzate di base da un rapporto tra i denti superiori e i denti inferiori anomalo e queste malocclusioni dentali si possono verificare nei tre piani dello spazio su di un piano verticale possiamo avere il morso aperto il morso profondo su di un piano trasversale possiamo avere il cross bite o il brodi e su di un piano sagittale possiamo avere una prima una seconda o anche una terza classe perciò denti ossa e muscoli non sono in armonia tra di loro e per questo motivo le malocclusioni possono dare diverse problematiche che vi riassumo brevemente possono dare problemi funzionali come disturbi nella masticazione nella fonazione nella deglutizione e nella respirazione possono dare problemi estetici e quindi alterare il sorriso rendere il volto asimmetrico possono dare problemi sociali anche emozionali così come problemi articolari di disordini temporomandibolari o problemi odontoiatrici generali perché ovviamente una malocclusione può aumentare il rischio di care o anche di malattia parodontale per diverso tempo in maniera errata si è ritenuto che le cause delle malocclusioni fossero sostanzialmente ereditarie in realtà diciamo a parte alcuni casi congeniti che si possono comunque sia verificare nella stragrande maggioranza dei casi è lo stile di vita a determinare le malocclusioni dentali come dimostrato da weston price da corruccini da pedro planas e dal dottor miu si tratta in tal caso di fattori che intervengono subito dopo la nascita e che vanno appunto a determinare le malocclusioni dentali questi fattori sono la masticazione carente l'allattamento artificiale la scorretta postura della lingua le abitudini viziate la respirazione orale i traumi post natali come per esempio al momento del parto l'utilizzo del forcipe e le patologie infiammatorie autoimmuni e anche neoplastiche studi interessanti sono stati condotti su gemelli cresciuti in contesti diversi è stato visto che questi gemelli hanno variazioni occlusali differenti e differente sviluppo del volto a parità di materiale genetico ma in un ambiente differente è stato visto anche che gli indigeni civilizzati nell'arco di uno o due generazioni sviluppano malocclusioni nel momento in cui adottano lo stile di vita occidentale le malocclusioni è stato anche visto che sono più frequenti nelle aree urbane rispetto a quelle rurali e chiaramente sia le malocclusioni dentali che anche gli affollamenti dentali rappresentano un'eccezione nei cacciatori raccolgitori e nei popoli tribali che adottano uno stile di vita tradizionale e non conformato al modello occidentale praticamente è stato visto che i fattori ereditari sono presenti nel 15 per cento dei casi quelli congeniti nel 24 per cento dei casi quelli acquisiti nella stragrande maggioranza dei casi cioè nel 61 per cento dei casi la proniosi delle malocclusioni dipende ovviamente dall'ereditarietà del difetto dal tipo di difetto perché per esempio una terza classe o una simmetria mandibolare sono più difficili da risolvere e dai tempi di intervento perché agire a livello del picco di crescita e intercettare la malocclusione il più precocemente possibile è di fondamentale importanza la prima classe dentale ha una prevalenza tra il 43 e il 96 per cento nella popolazione la seconda tra il 4,4 e il 39,7 per cento la terza classe tra il 2 e il 22,6 per cento per quanto concerne l'overjet normale diciamo che si ha tra il 31 per cento il 94 per cento della popolazione l'overjet aumentato tra il 5,3 e il 50 per cento quello diminuito tra lo 0,3 e il 14,1 per cento l'overbyte normale per fortuna è quello più frequente e ha una prevalenza d'incidenza tra il 53,5 e il 96,2 per cento il deep byte invece cioè il morso profondo ha un'incidenza tra il 2,2 per cento e il 36,6 per cento l'open byte tra l'1,3 e il 17 per cento per quanto riguarda il cross byte è stato visto che quello posteriore è più frequente di quello anteriore anche l'affollamento dentale è abbastanza frequente e chiaramente una dottoiatra per poter comprendere se è necessario o meno un trattamento ortodontico ad un paziente quindi se quel determinato paziente riuscirà a trarre beneficio dal trattamento ortodontico utilizza il cosiddetto indice IOTN cioè indice di necessità di trattamento ortodontico questo indice prevede vari gradi c'è un grado 1 dove il trattamento ortodontico non è necessario il grado 2 dove la necessità è lieve il grado 3 quando è borderline il grado 4 quando è necessario il grado 5 quando è estremamente necessario è stato visto che c'è una maggiore necessità di trattamento ortodontico negli svedesi ed è stato anche visto che il gruppo di età che cerca maggiormente trattamento ortodontico è quello tra i 12 e 14 anni con una maggiore percentuale di soggetti femminili è stato anche visto che c'è una maggiore prevalenza di malocclusione in dentizione decidua e mista rispetto alla dentizione permanente e questa maggiore prevalenza di incidenza è proprio legata al fatto che ci siano le cattive abitudini le bad habits piuttosto glanzare Grazie.